Si chiude l'Anno Santo della Misericordia e anche l'Arcidiocese di Ravenna festeggia e celebra quello che è stato un anno del Giubileo straordinario della Misericordia, indetto con la consegna e la lettura della Bola di Indizione Misericordia e Vultus. Una cattedrale gremita questa sera nella chiusura della Porta Santa, proprio come nell'inizio dell'Anno straordinario del Giubileo della Misericordia. Cosa ha significato questo anno per i Ravennati? Sì, in certo senso sono stato stupito perché è vero che all'apertura avevamo una massa di fedeli straordinarie da tutta la diocesi. Forse questa sera ce n'ero un po' meno, ma ugualmente sono rimasto stupito per la quantità di persone presenti, attente, che hanno partecipato. Il segno è che il bisogno è grande, il bisogno di riscoprire un percorso spirituale, di riagganciare la propria vita al Signore. Questo tema della Misericordia è un tema che ha aperto molte porte e molti cuori. Speriamo che continui a portare frutto non solo in questi grandi eventi, ma anche nella continuità dei giorni che verranno.